DNA, arte della vita. Una sfida tra arte e scienza è quella che viene raccontata nella mostra organizzata dalla Fondazione Malattie Rare e Mauro Baschirotto per i 20 anni di attività. Noi di Rete Veneta vi avevamo raccontato l'inaugurazione al Palazzo delle Opere Sociali in Piazza del Duomo a Vicenza a metà febbraio, un viaggio tra la Sacra Sinnone e la Danza del Tempo di Salvador Dalì, fino a immergersi nella ricerca contro la fibromatosi aggressiva di tipo desmoide e il nevo melanocitico congenito gigante. Proprio per contribuire a combattere questa forma rara di neoplasia che copre gran parte della pelle di un bambino ogni 30.000, Rete Veneta e l'Associazione Veneti Schiacciati Dalla Crisi avevano assegnato proprio alla Fondazione Baschirotto il premio Stella di Natale e un assegno da 20.000 euro per proseguire la ricerca. Ricerca che non si ferma con il Covid ma che continua. Per questo, dopo la sospensione del lockdown alla mostra DNA Arte della Vita, torna e viene prorogata al Museo Diocesano di Vicenza fino al 27 settembre. Una grande occasione per lanciare un grande messaggio. Il messaggio che noi abbiamo cercato di dare è quello di avere capacità di sognare, di portare sempre più in alto il desiderio di raggiungere un obiettivo. Perché attraverso i sogni temporanei, un domani possono essere concretizzazioni avveniristiche, futuristiche e importanti. Servono dei grandi sogni, serve della grande costanza, serve anche una grande creatività così come nell'arte, serve l'intuizione, serve la capabilità, serve l'impegno e poi arrivare a quel risultato.